Buonasera, riprendiamo il nostro studio dopo Kippur, siamo nei giorni che ci avvicinano alla festa di Sukkot e quindi volevo studiare con voi un brano tratto sempre dal trattato di Eruvin che riguarda il legame tra il nostro argomento Eruvin e la Mitzvah della Sukkot. Come vedremo fra poco, due trattati di Salmud, il trattato di Eruvin per l'appunto e il trattato di e il trattato di Eruvin che stiamo studiando e l'inizio del trattato di Eruvin che stiamo nel trattato di Sukkot. Queste due Mitzvot, una Mitzvah della Torah e l'altra di origine rabbinica, quelle di Eruvin, appunto del fare una sistemazione ad un cortile oppure ad un bicolo per poter trasportare durante lo Shabbat, hanno una caratteristica in comune. Questo fatto viene notato dalla Gemara appunto nei due trattati, mettendo a confronto le prime Mitzvah Jot all'interno del trattato. Fra l'altro l'inizio di Eruvin è interessante perché inquadra concettualmente argomenti che già abbiamo incontrato varie volte e che quest'anno in modo particolare sono diventati rilevanti. Voi sapete che durante Kippur quest'anno, in modo particolare, si è reso necessario fare delle tefillotte all'aperto. Come vedete, in Torino abbiamo fatto una tensostruttura per la tefilla di Nila, ma in tanti altri posti in Italia e nel mondo ci sono state delle sistemazioni con delle installazioni all'aperto per le quali si è rivelato indispensabile applicare quanto viene scritto proprio all'inizio del trattato. Ad esempio, come sapete, noi qui abbiamo fatto una tensostruttura nell'area antistante il Betacneset, in piazzetta primo levi e quindi un problema importante che abbiamo dovuto affrontare era come poi fare una costruzione all'Achica per consentire il trasporto dall'interno del Betacneset dove c'erano i libri e quanto serviva per la tefilla e la tensostruttura stessa. Il più in generale, adesso abbiamo fatto una struttura praticamente chiusa, ma il più in generale ci saremmo potuti porre il problema rispetto a come poi trasportare, semplicemente senza fare delle costruzioni, dal Betacneset alla viazzetta stessa. Insomma, quali aggiustamenti possiamo fare trattandosi di un'area abbastanza delimitata per poter trasportare di Shabbat, di Yom Tov e di Kippur nell'area della piazzetta? Come sapete, in base a quello che abbiamo studiato, ci sono due ordini di sistemazioni da fare in questo caso. Un primo ordine di sistemazione è di tipo architettonico, per cui bisogna sistemare l'area per fare in modo che abbia un certo numero di pareti di modo tale da rendere quell'area dissimile rispetto ad una proprietà pubblica e quindi consentire il trasporto. Dall'altra parte c'è un problema di condivisione delle proprietà. Spesso queste realtà, che sono realtà intermedie, non si tratta di vere e proprie proprietà pubbliche, afferiscono a vari proprietari differenti. l'esempio classico è quello del Khazer, quello di un cortico. Per questo, scusate di disegnare, però sento il ricordo poi del… Allora, dicevo che è necessario poi condividere queste proprietà attraverso un eruv, attraverso appunto del cibo che viene posto all'interno di una delle proprietà, appunto questo cibo è condiviso fra le varie persone che si affacciano sul cortile e attraverso l'eruv, poi attraverso questo atto di condivisione, all'atto pratico che è permesso di trasportare durante lo Shabbat all'interno del cortile stesso. E appunto questo è l'argomento che viene affrontato all'inizio del trattato di Ruvin. La prima miscina del trattato inizia così, inizia con le parole, ma voi sono riusciti a visualizzare bene il testo? Sì. Vedete lo schermo? Sì, sì, benissimo. Ok, allora, siamo all'inizio del trattato di Ruvin, pagina 2A proprio, questa è la prima miscina e parla di un mavoi, appunto il primo capitolo di Ruvin si chiama mavoi, sceu gavoa, le malla mesrim amma. Si tratta di un mavoi, vale a dire di un bicolo, che è gavoa, che è alto, le malla mesrim amma, che è alto più di 20 amot. L'amma, come sapete, è il cubito, è una misura di circa mezzo metro. Cioè qui abbiamo quindi un mavoi, un bicolo, che ha una cora, vale a dire una trave, che si trova al di sopra di esrim amma, al di sopra dei 20 cubiti. Qual è il caso? Guardate, Rashi, colonna di destra dove c'è il mio contatore. Ma voi c'è un gavoa. Spiega, Rashi, c'è in nico e tacora, le malla mesrim amma. Allora si tratta del caso in cui in nico e tacora, le malla vuol dire mettere, per cui hanno messo e tacora, cora e la trave, le malla messe di mamma. Cioè vuol dire, come vedremo fra poco, il sistema attraverso il quale sarà possibile sistemare questo mavoi, questo vicolo, sarà quello di mettere una cora, di mettere una trave ad una certa altezza. A cosa serve questa trave? Serve a creare un segno di riconoscimento affinché le persone capiscano di trovarsi all'interno di una proprietà che è una via di mezzo, una proprietà pubblica e una proprietà privata. Questo mavoi, come vedremo, condivide delle caratteristiche con la proprietà pubblica e delle caratteristiche con la proprietà privata. Attraverso questo lecchi, le persone capiranno poi, lecchi oppure cora, cioè attraverso un palo, attraverso una trave, le persone capiranno che non potranno poter trasportare da questo tipo di proprietà alla proprietà pubblica, cosa che sarebbe comunque vietata durante lo shabbat. L'altro shabbat non si può trasportare da proprietà pubblica a proprietà privata, non si può trasportare per quattro ammotto, per quattro cubi all'interno di una proprietà pubblica e non si può neppure trasportare da una proprietà privata ad un'altra proprietà privata senza rupe. Questo sempre era il caso che c'eravamo posti per chi pure ha il Betacneset. Noi avevamo una proprietà privata che è il Betacneset nella quale non abitava nessuno ed un'altra proprietà privata che era rappresentata dalla densostruttura. Dal punto di vista delle misure, tecnicamente quella densostruttura era una proprietà privata in tutto e per tutto, però semplicemente non apparteneva a noi, quindi non potevamo considerarla una continuazione del Betacneset. Per questo abbiamo fatto un piccolo roof per l'occasione, cioè per poter trasportare dall'uno all'altro. Non ci siamo posti invece il problema dell'aggiustare architettonicamente l'area. Questo perché? Perché appunto abbiamo delimitato l'area attraverso una costruzione che era inquadrabile da un punto di vista lachico come il Reshutaglia Kid, come una proprietà pubblica. Il Reshutaglia Kid, per essere tale, ha delle pareti. E questo è già in maniera estremamente chiara rispetto alle regole della SUCCA che vengono affrontate all'inizio del trattato di SUCCA. Cioè per definire una proprietà privata in questo caso quante pareti servono, per esempio, è una domanda. E per la SUCCA c'è la sua risposta particolare che vedremo tra poco nella prima vicinata del trattato di SUCCA. In questo caso specifico, cioè quello della SUCCA e quello del Mavoj, c'è una particolarità che è collegata all'altezza a cui vengono posti gli elementi affinché queste costruzioni possano essere considerate valide da un punto di vista lachico. In che senso il tetto della SUCCA non può trovarsi in il ricipio al di sopra di una determinata altezza. E questa altezza da un punto di vista lachico è inquadrata proprio negli elementi a mosso di cui si parla qua. C'è una similitudine per cui fra la nostra cora, la nostra trave che viene messa sul Mavoj, su questo vicolo, come aggiustamento per poter trasportare all'interno del vicolo stesso, è il tetto della SUCCA. Allora, qui la Micina dice che se abbiamo un Mavoj, appunto abbiamo un vicolo, che è più alto di 20 cubiti, deve abbassarlo. Continuando il RACI che stiamo vedendo prima, seconda riga, Beguarazò dice che questa trave a cosa serve? Le attirle dal tello do haba, serve per permettere il trasporto al suo interno. De midi oraida, perché secondo la Dora, dice RACI, Il trasporto all'interno del Rishut Arabim, all'interno della loedà pubblica, è proibito durante il Shabbat. Io durante il Shabbat non posso trasportare un oggetto all'interno del Rishut Arabim, come dicevamo, per più di quattro ambot, per più di quattro cubiti. Come si inquadra il Rishut Arabim? Chiederaci, o mai il Rishut Arabim? Si tratta di una grande strada, una grande piazza, uno spiazzo grande, C'è poi un altro collegamento, l'inizio del trattato del Ruin e l'inizio del trattato di Shabbat. Il primo capitolo del trattato di Shabbat si intitola proprio Ieziotta Shabbat, vale a dire le modalità di uscita, di trasporto dello Shabbat. L'esempio appunto lì è quello del trasporto da un Rishut Arabim, da una proprietà pubblica, ad una proprietà privata. Lì si porta l'esempio di un povero che stende la mano all'interno di una proprietà pubblica per prendere del pane che viene dato dal padrone di casa che per definizione si trova dentro casa. E lì la base concettuale che viene posta è quella dell'accampamento del popolo ebraico nel deserto. Cioè quella è appunto la base concettuale dalla quale derivano le categorie concettuali delle regole dello Shabbat. Cioè come per tutti e 39 i lavori dello Shabbat sono ricavati dalla costruzione del Mishkan, dalla costruzione del tabernacolo, ugualmente per quanto riguarda la Hozza, per quanto riguarda il trasporto, troviamo qualcosa di simile. Perché appunto l'idea è quella dell'accampamento del popolo ebraico nel deserto. Dice Rashi di colmile del Shabbat, perché tutte quante le cose che riguardano lo Shabbat le impariamo dal Mishkan, le impariamo dal tabernacolo. Appunto si impara una misura che è rilevante per quanto riguarda la proprietà pubblica, che è quello delle sedici ammott. Cioè noi non abbiamo una proprietà pubblica per l'Akha inferiore alle sedici ammott, agli otto metri di larghezza. Cioè per cui se noi abbiamo una strada che è più stretta di otto metri, appunto che ha meno di otto metri di larghezza, praticamente questa non potrà essere inquadrabile come era Shutterebim. Automaticamente diventerà un'altra cosa. Se vi ricordate, introducendo il tratto di rovina abbiamo spiegato che c'è una via di mezzo tra la proprietà pubblica e la proprietà privata che si chiama Carmelit. Appunto queste strade più strette per cui di sedici ammott sicuramente fanno parte di questa categoria alachica. E c'è poi una facilitazione ulteriore che è collegata al numero di persone che passano, se vi ricordate, all'interno della strada. Cioè secondo alcuni c'è un altro prerequisito fondamentale è che vi passi un numero di persone pari al numero di componenti del povero del deserto. Cioè serve che passi una giornata 600.000 persone all'interno di quella strada. Questa è una grande facilitazione perché appunto è quello che poi dà la possibilità a un punto di vista alachico di fare poi un eruf che permetta il trasporto durante Shabbat. È molto difficile alachicamente consentire il trasporto in un luogo in cui abbiamo un Reshut Arabim, una proprietà pubblica vera e propria. Appunto ci sono varie caratteristiche. Una è quella della larghezza, l'altra è quella del passaggio di persone e un'altra caratteristica fondamentale del Reshut Arabim è l'essere mi full lash. Posso dire essere mi full lash? Vuol dire essere aperto da due lati. Cioè ci sono strade appunto che danno poi su appunto dei luoghi pubblici da una parte e dall'altra e poi lateralmente hanno dei muri dove poi si sviluppano le proprietà private. Quindi meno di 16 amot non abbiamo sicuramente un Reshut Arabim, non abbiamo una proprietà pubblica. Il Kach lo ha del Reshut Arabim Bezir Miudvava Marof. Quindi al di sotto dei 16 amot non abbiamo un Reshut Arabim, un full lash, Mishenerashin. Appunto affinché possiamo avere una proprietà pubblica è necessario che questa sia aperta Mishenerashin alle due estremità. Il Mavoi intanto come caratteristica di questo vicolo ha la caratteristica di essere breve e non è largo 16 amot. Se invece è più ampio di 16 amot, è possibile che un vicolo sia più largo di 8 metri, non è mi full lash. Appunto non è aperto sulla proprietà pubblica da una parte e dall'altra. In questo caso una parte è aperta sul Reshut Arabim e l'altra invece è chiusa. Quindi abbiamo una apertura verso proprietà private su tre lati e il quarto lato invece dà sulla proprietà pubblica. Allora in questo caso come ci si regola? Se il Mavoi spiega Rashi M full lash, per dire aperto dai due lati, lo avvemisterebbe Korah. Non abbiamo quel permesso che incontriamo nella Mishnach e quello della Korah. Cioè quello della trave. Non abbiamo questo permesso. Non è sufficiente mettere una trave all'entrata di questo Mavoi, di questo vicolo per consentire il trasporto. Allora dal momento che questo non è un Reshut Arabim, non è una proprietà pubblica, lasciare le Taltule Beminat Torah, secondo la Torah sarebbe permesso trasportare all'interno di questo Mavoi, lishun tikkun, senza fare alcun aggiustamento. Cioè il fatto che poi dobbiamo mettere un Leki oppure una Korah, cioè per dire qualcosa che ci fa riconoscere e ritrovarci all'interno di un Mavoi e non di un Reshut Arabim e non di una proprietà pubblica, è un'introduzione dei Kakamim. Cioè Verabbanan, vedete i Kakamim, Gasur, hanno fatto un decreto Mishum deat eliklufe Bershut Arabim, perché viene a scambiarsi con un Reshut Arabim, con una proprietà pubblica. E ci sono due possibilità, insomma, per fare questa Takana, che sono Leki oppure Korah. Leki cos'è? È un palo, cioè quindi un segno di riconoscimento che si sviluppa in verticale, oppure una Korah, una trave che si sviluppa in orizzontale. Ed entrambi, comunque, sono solamente un Eker, vale a dire un segno di riconoscimento. De l'O, l'Itel e le Mishre, Reshut Arabim Mura, affinché le persone non si sbaglino e poi arrivino a permettere un Reshut Arabim Mura. Una proprietà pubblica vera e propria. Come si fa in questo caso? Allora, quindi affinché il Eker sia tale, è necessario che sia riconoscibile. Adesso la domanda è, a che altezza io posso mettere un elemento, facendo in modo che questo elemento è percepibile da parte delle persone. Cioè, qui i Kakamimi maestri hanno dato una misura precisa che è quella di Esri Mamma, che è quella delle venti amot, dei venti cubiti. Allora, in questo caso, dice la Mishnah, in questo caso come ci dobbiamo regolare? Cioè, se la corasse, la trave si trova al di sopra delle venti amot, allora bisogna abbassarla. Qui vengono spiegate poi altre cose importanti. Vediamo rapidamente la Mishnah. Se invece abbiamo una apertura superiore a 10 amot, allora dovremo, appunto, diminuire ugualmente l'ampiezza di questa apertura. E qui troviamo poi ciò che ispira proprio l'idea dell'ERUV, così come la conoscete. Avete visto in qualche città un ERUV come è fatto? L'ERUV è rappresentato principalmente da un collegamento fra dei vali, spesso vali della luce semplicemente, dove viene messo un filo fra un palo e l'altro. E appunto cosa si fa attraverso questo filo? Si collegano i vali per creare una surat a peta. Cosa vuol dire surat a peta? La forma di una porta, cioè la forma di un'apertura. Questo è ciò che crea sostanzialmente una parete virtuale che trasforma una proprietà, non una proprietà pubblica vera e propria in base a quello che abbiamo visto, ma una proprietà semipubblica in un luogo circondato che permette il trasporto durante il Shabbat. Cioè attraverso la surat a peta sostanzialmente è possibile arrivare all'idea di un ERUV attraverso il quale è possibile dell'asportare. Se c'è surat a peta dove sta la differenza? E' che affalpisce ora che dice la micina, anche se c'è un'apertura a questo punto più larga ai 10 a motte. Chiaramente la distanza ai 10 a motte sono 5 metri, che non è una grande distanza. Ovviamente i vali della luce stanno molto di più. Attraverso la surat a peta, che appunto attraverso questa forma di un'apertura, anche a fronte di distanze più ampie rispetto ai 5 metri, è possibile consentire il trasporto. Voyenz a reclimate, cioè non bisogna diminuire. Cioè cosa vuol dire? Quando noi ci vediamo di fronte a misure più ampie rispetto a quelle iscritte alla micina, vale a dire 10 metri in altezza, 20 a motte o 5 metri in larghezza grossomodo, allora dobbiamo fare in modo di diminuire le aperture. Cioè effettivamente quando ci troviamo di fronte ad un muro dove abbiamo un'apertura più larga di 5 metri, per quanto possa essere grande il muro, perdiamo l'idea della continuità del muro. Serve un elemento di raccordo sostanzialmente, che è quello che poi dà luogo alla surat a peta. E' ugualmente in altezza, se abbiamo un portone per capirci che è più alto di 10 metri, dove c'è una trave alla sommità di questa apertura, al di sopra i 10 metri non abbiamo più piena percezione di quello che succede. Questo è quello che i Kachamim sostengono, ritengono, riferendosi a questo discorso. Questa è la prima misnà del trattato di Jerovina. Adesso volevo vedere con voi la prima misnà nel trattato di Sokka. Come vedremo in questa misnà, compaiono alcune alakot fondamentali riguardo la Sukkha. Sta prendo il file, un attimo solo. Ok, vedete il file di Sukkha? Sì. Vediamo. Ok, meraviglioso. Siamo all'inizio del trattato di Sukkha. Allora, come vedete, qui la misnà dice così. Come dicevo, qui vengono affrontate alcune alakot fondamentali rispetto alla costruzione. Tra l'altro in questi giorni ci siamo dedicati alla costruzione della Sukkha, della comunità. Allora, dice la prima misnà di Sukkha. Sukkha si guà, le malame, srimma, mapsula. Vedete, abbiamo un calco preciso rispetto a quello che abbiamo detto. prima rispetto al mavoi, però con una differenza, no? Per il mavoi cosa avevamo detto? Che se c'era un mavoi che era le malame e le srimma mali, di sopra dei venti ammoth, di sopra dei venti copidi, cosa diceva la misnà in Eruvina? Iemaet. Cioè che deve diminuire, vedete? Qui in Sukkha invece, cosa ci dice? Che la Sukkha si alta più di venti ammoth, psula. Cioè vuol dire non è adatta per fare la mitzvah della Sukkha. Psula. Verabbi Uda Makshir. Verabbi Uda, in questo caso, permette. Continua a misnà, poi. Veshenak vua asarat fachim. Cioè non c'è solamente un'altezza massima per la Sukkha, che è quella delle venti ammoth, ma c'è anche un'altezza minima della Sukkha. A quanto corrisponde? Corrisponde ad asarat fachim. Corrisponde a dieci palmi. Il motivo è abbastanza semplice. Introducendo Rovince, vi ricordate, abbiamo definito la proprietà privata dicendo che la proprietà privata, cosa ha delle mikizot, ha dei divisori alti dieci di fachim, alti dieci palmi. E questo è un elemento fondamentale per definire la proprietà privata. E la Sukkha, in sé per sé, risponde alle caratteristiche galachiche del reshutekid, della proprietà privata. Poi ancora cos'altro serve? Come dicevamo, servono delle mikizot per la Sukkha. Quindi Veshen la defanot, una Sukkha che non ha delle defanot, non ha delle pareti. è psula, beshekamata, merubba, mitsilata, psula. Altra caratteristica qual è? È quella che la Sukkha deve avere più ombra rispetto alla luce che ha. Per cui una Sukkha che ha un tetto talmente poco coprente da avere più kama, vale a dire più luce rispetto all'ombra, psula, non è adatta per fare la mitsfa della Sukkha. Allora, adesso come vedete, dove sta la differenza tra il nostro datato Deruvin e questo di Sukkha? La differenza sta nel che cosa bisogna fare per sistemare la situazione. Allora, torno ad Deruvin. No, Tnanatam, abbiamo imparato lì. Appunto qui riferimento alla nostra Mishnà in Massehe Tsukkha. No, Tnanatam, abbiamo imparato lì. Una Sukkha che sia alta più di 20 amot, psula. Appunto non è adatta per fare la mitsfa della Sukkha. Dice che questa Sukkha, invece, nonostante abbia un tetto superiore del 20 amot a 20 cubiti, è adatta per fare la Sukkha. Chiede la, la chiamerà, Maishnà, Gabè Sukkha, Tnanatam, Psula, Begabemma Voi, Tannatakanta. Cioè, dove sta la differenza fra la Sukkha, Tnanatam, Psula, dove ci ha detto che è psula, che è, insomma, inadatta per fare la mitsfa, Begabemma Voi, per quanto riguarda invece il vicolo, Tannatakanta. Dove invece la Mishnà ci insegna una taccana, ci insegna un aggiustamento. Come abbiamo visto, qui in Ideruvin c'è scritto Yemaet. Cioè, dire che si deve poi diminuire l'altezza della cora, della trave, e in questo modo è possibile consentire il trasporto. Quindi la differenza a livello linguistico è che qui c'è scritto Yemaet, non c'è scritto Pasul, non c'è scritto che è inadatto, no? Risposta della chiamerà, quindi, Sukkha, Deoraita, Tannatam, Psula, Ma Voi, Deoraita, Tannatakanta. C'è una differenza importante che riguarda le origini delle cose. Cioè, qual è l'origine della Sukkha e qual è l'origine degli Eruvin, cioè delle regole del Mavoi. La Sukkha, come sapete tutti quanti bene, poi leggeremo la Torah Shabbat, il primo giorno di Sukkot, è una mitzvah della Torah. Eruvin, invece, appunto, cioè come concetto, è una istituzione di origine rabbinica. Cioè, questo Mavoi, di questo cortile, secondo la Torah, non sarebbe un reshut arabim, non sarebbe un'obietà pubblica, per cui non sarebbe necessario fare niente, secondo la Torah, per poter trasportare al suo interno. I Kassamim, appunto, hanno introdotto degli aggiustamenti per consentire il trasporto al suo interno. Quindi, Sukkha Deoraita, la Sukkha, che deriva dalla Torah, Tane Psula. Appunto, l'amicità, riferendosi alla Sukkha, ci ha detto che è Psula, che è inadatta per fare la mitzvah. Quindi, se mi metto là sotto, non ho fatto sostanzialmente la mitzvah della Sukkha. Mavoi De Rabbanan, invece il Mavoi, il vicolo che è De Rabbanan, appunto, cioè come tipo di inquadramento alachico, è un inquadramento di origine rabbinica, Tane Daccanta. Rispetto a questo, la Mishnah mi ha insegnato una Daccana, cioè mi ha insegnato come sistemare questa cosa per potervi trasportare. Quindi, una prima risposta che dà la Gemara, dipende dall'origine del precetto. La Sukkha arriva dalla Torah e allora scrive Psula, che è inadatta, invece il Mavoi, che è d'origine rabbinica, ci ha riportato una Daccana, un modo in cui sistemare la cosa. Beibaitema, seconda possibilità, Deoraita, Nami, Tane Daccanta. Deoraita, cioè seconda la Torah, Nami, ugualmente, Tane Daccanta. Cioè sarebbe possibile spiegare una Daccana, cioè sarebbe possibile indicare un modo attraverso il quale possiamo rendere Kshera, questa Sukkha, e là, ma c'è un altro motivo per cui è così, ed è collegato al modo attraverso il quale la Mishnah si è espressa. Cioè, come avete visto nel Trattato di Sukkha, la Mishnah ci ha presentato varie raccolte differenti, c'è introdotto varie idee, c'è introdotto il fatto che la Sukkha ha un'altezza massima, che ha un'altezza minima, che serve un certo numero di Fanot, di pareti, e che serve una certa quantità di luce. Cioè, vorrei dire, la Mishnah, approcciandosi alla Sukkha, ha introdotto già vari argomenti. Tant'è che si tratta di una Mishnah molto corposa, poi quella nel suo sviluppo all'interno della Gemara, no? Quindi, dice la Gemara Queen Ruin, Sukkha deneficin mille, pasic vetane psula. Cioè, la Sukkha deneficin mille, per la quale ci sono tante cose, cioè vengono affrontati tanti argomenti differenti, pasic vetane psula, cioè si esprime attraverso il termine psula, che è inadatta, perché è un termine che si adatta a tutte quante le situazioni che vengono descritte all'interno di quella Mishnah. Cioè, se avesse dovuto spiegare che cosa fare per sistemare quelle varie situazioni, avrebbe dovuto utilizzare necessariamente dei termini differenti, perché cosa avrebbe dovuto dire? Cioè, se è troppo alta, deve abbassarla, se è troppo bassa, deve alzarla, se ha un numero insufficiente di fanot di pareti, deve aggiungerne, se ha poca ombra, deve fare in modo di andare al tetto più fitto per aggiungere ombra. Cioè, quindi avrebbe dovuto indicare in realtà quattro sistemi differenti per sistemare quella Sukkha. Invece qui, quando parla del Mavoi, in realtà il sistema è sempre lo stesso. Iemaet deve diminuire, questa è l'idea comune che compare quando si parla del Mavoi. Cioè, se il Lechi è... Se il Lechi, appunto, se la cora, se la trave è posta troppo in alto, dovrà abbassarla. Se l'apertura è troppo larga, dovrà restringerla. Però l'idea che compare in ogni caso è quella di diminuire. Invece quando si parla della Sukkha, in determinati casi, dovrà aumentare. Ci serve? Sì, ci siamo. Tutto quanto chiaro? Tutto chiaro, 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 chiaro. Ok. Spiega Rashi, riguardo a questa parte. De Tane da Canta, De Tane, Iemaet, quando si parla del Mavoi, dice che bisogna diminuire e non dice che è Pasul. Sukkha, De Tama di La, De Uraida. Il motivo della Sukkha è De Uraida, deriva dalla Torah, che De Amrina Latam, come è scritto lì, cioè, a inizio del trattato di Sukkha, che è il dramma poi che studieremo domani, pomeriggio, nella giornata degli studi, il motivo qual è? E' che la Torah, quando ci introduce la Mitzvah della Sukkha, ci dice così, Le mani di Uraida, affinché la vostra discendenza sappia, chi va a Sukkot, shavtiet ven israel, bozio tamber et smithraim, aniyashem erwechem. Punto di Parashat Temor, la Torah ci dice, affinché sappia la loro discendenza, che nel Sukkot ho fatto stare i figli di Israele, quando li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto, io sono il Signore, Signore vostro Dio. Cosa impariamo da questo versetto? E' che è necessaria, quando si sta all'interno della Sukkha, una consapevolezza di trovarsi all'interno della Sukkha, cioè a dire, se noi abbiamo un tetto talmente tanto alto, o con delle caratteristiche tali, per esempio della strettezza delle pareti, per cui non ho più piena percezione di avere un tetto sopra di me e non ho una situazione tale per cui l'ombra che ricevo all'interno di quella struttura deriva dal tetto e non dalle pareti, non sto mettendo in pratica la mitzvah della Sukkha. Cioè un elemento fondamentale per fare la mitzvah è quello della consapevolezza di avere un tetto al di sopra di noi, i nomini, le mani e di udro dechem. Allora, per cui quando si parla della Sukkha, tani psulah, appunto è stato insegnato che è psulah, che non è adatta per fare la mitzvah. Qual è il motivo di questa cosa, psulah? Perché questa misura, cioè quella delle venti ammot, è una la khalemoshemisinai, è qualcosa che già arriva dai tempi di Moshe Rabbenu. Cioè mentre i khamim, quando hanno parlato del mavoi, hanno introdotto tutta quanta la costruzione e di conseguenza hanno anche introdotto la misura dell'altezza della qura, della trave, per fare in modo che il trasporto sia consentito durante lo shabbat all'interno del mavoi, quando si parla della Sukkha, già è stata data questa misura. Cioè per cui i khamim vengono per spiegarti che se non hai fatto così, insomma, hai costruito la Sukkha secondo queste caratteristiche, i khalemoshemisinai è inadatta e per questo la misura può permettersi di utilizzare questo termine del passoluto, insomma, cioè del fatto che non è adatta per fare la Sukkha. Ve'a fal gav de me'ania batta kanta, col khamma dell'homme taken la, i khalemoshemisinai, cioè tutto quanto il tempo in cui non è stata dentro tutta la takana, cioè finché una persona non ha sistemato poi questa Sukkha, col khamma dell'homme taken la, tutto quanto il tempo in cui non è sistemata e che psula avviene chiamata psula. Ma voi, invece, quando si parla del mavoi, de khalikara dera banan, u, cioè tutto quanto il discorso del mavoi è dera banan, invece è d'origine rabbinica, non è adatto in questo caso utilizzare le shon paslut, appunto questa espressione che è inadatta, no? Shere khanit kilurat ha, esek mavoi, iske mavoi vetor daf, cioè qui khamim, de metto cui, pronuncio questa mishnà che avre il trattato di Eruvin, stanno in realtà introducendo l'idea di mavoi, che è un'idea che in la Torah non compare e non avrebbe senso a questo punto, dice la shi, utilizzare il termine pasul per una cosa che è stata appena introdotta, è stata ricordata adesso, cioè perché i khamim in realtà neanche ti hanno detto ancora qual è la misura alla quale porre questa cora, quindi non avrebbe avuto senso parlare di pasul quando si parla della cora, della trave che si trova di un mavoi. Allora, abbiamo visto poi nella misura in sukkà che quando si parla della sukkà ne fice mille, ha tanti argomenti, cioè la misura vengo ricordata, è ricordata lì la misura, beh c'è la shalosh tefanot, che non ha tre pareti, e c'è una guà sarano, un'altra dieci, dieci tefakim, un'altra dieci palmi, è sulla minina della sukkà, e appunto che la sua luce sia superiore rispetto a Roma, in tutti questi casi, la sukkà sarebbe psula, pasik vetane psula, in questo caso viene utilizzata l'espressione psula, de ashtamatsikail vetane leu kullukerada, perché appunto questa espressione, l'espressione psula, è un'espressione che consente di accumulare fra di loro tutti quanti i casi, di avetane d'accante, perché se avrebbe dovuto esprimere invece la dacanà, cioè cosa fare? Luave, mazze, la rovinul, le matninu, non avrebbe potuto accumulare i vari casi per insegnarceli assieme, c'è nuovamente uno scopo di tipo mnemonico nel momento in cui la misura viene enunciata, cioè se avesse dovuto dire appunto per ciascun caso il tipo di dacanà, sarebbe stato più difficile ricordare poi la misura, e quindi c'è questo ritornello all'interno di schnappsula che favorisce voi la memorizzazione, questo è sempre proprio di un insegnamento orale. Vecen la sharosh defanot, una zucca che non abbia tre defanot, che non abbia almeno tre pareti, in realtà poi ricordo per la ca sono due ed un pezzo, in realtà per poter descrivere una zucca, cioè appunto attraverso una struttura delle praticamente, cioè creando un angolo fra due pareti, l'importante è che le due pareti intere non siano una opposta all'altra ed almeno un tefac nella terza parete è possibile arrivare a produrre una zucca, insomma fare una zucca casalinga in base alle misure che abbiamo descritto è una cosa abbastanza facile in realtà. Per quanto riguarda la misura minima delle defanot, delle pareti della zucca, sapete che la misura minima è quella per cui una persona sta almeno con la testa, la maggior parte del corpo all'interno della zucca, l'articamente si parla di rochov e rubò, appunto della testa la maggior parte del corpo della persona è fondamentale che è quella di mangiare all'interno della zucca e questa misura viene calcolata l'articamente in sette defachim, quindi poco meno di 70 cm per cui se noi riusciamo a creare una zucca che abbia almeno due pareti di 70 cm un tefach, un palmo sulla terza parete si alta almeno 10 tefachim quindi poco meno di un metro quindi abbiamo una costruzione che ha dei lati di 70 cm all'altezza di un metro e un tetto chiaramente che sia fatto con materiali adatti per essere un tetto da zucca sostanzialmente dei vegetali non commestibili sostanzialmente che vengono posti sopra al tetto in questo modo abbiamo trovato la possibilità di fare una zucca casareccia e poi chiaramente è necessario che vi sia collegamento rispetto al cielo che siano visibili le stelle dalla zucca stessa la cosa è abbastanza agevole per produrre una zucca casareccia se la luce è superiore rispetto all'ombra avrebbe dovuto aggiungere dei vegetali al schac al tetto appunto schac è il termine che serve indicare il tetto della zucca secondo Rashi questo è anche a livello etimologico il motivo per cui la zucca si chiama zucca perché viene da schac viene da da detto dobbiamo armare è importante quando si insegna insegnare in modo sintetico per cui appunto nel momento in cui la misna viene espressa questa cosa viene insegnata nel trattato di Besachim appunto proprio all'inizio del trattato Dav Gimel l'amesso deve trovare il modo di creare delle strutture mentali che favoriscono la mobilizzazione nel nostro caso per cui andate a trovare quell'espressione che va a comunare più casi differenti per spiegare come determinati status diversi tra loro afferiscano ad una stessa idea in questo modo appunto la memorizzazione sebbene vengono scritte in realtà differenti è più semplice questo per quanto riguarda il nostro inizio di Erwin vediamo rapidamente il parallelo in Zucca per farvi vedere viene riportato appunto all'inizio della misnagra che abbiamo visto in novembre non c'è bisogno ma che differenza c'è per cui c'è scritto che è psula che non è adatta per fare la mitra e che differenza c'è per il ma voi dove invece viene riportata la dacana come deve essere sistemata per la suca che viene dalla dora si spiega che è psula che appunto non è adatta ma invece viene spiegata la dacana come viene come deve essere come deve essere sistemata beh beh temà oppure risposta alternativa avrebbe potuto spiegare pure per dora la dacana miusucca denefisce milta la suca per cui ci sono più cose pasic vedane psula per cui tagliato e ha detto pesula ma voi vedono la pici mille tanni daccanta e appunto ma voi invece che non ha tanta cosa perché viene scritta solamente una cosa tanni daccanta viene spiegata qual è la dacana appunto poi la che avrà poi passata alla domanda successiva è quella che da quale ci interesseremo domani pomeriggio che è quella qual è l'origine di questa cosa cioè per cui da dove impariamo dai versi insomma quali sono le caratteristiche fondamentali della suca cioè cosa definisce una una suca insomma attraverso i sukim verranno poi attraverso i versetti del tanaco verranno poi ricavate le caratteristiche fondamentali della della suca insomma e comprenderemo questa cosa poi ci prenderà vari da pime nel trattato di suca che di facendo studieremo più in là insomma nel nostro ordine di studio e appunto vengono descritte le caratteristiche fondamentali che poi definiscono la suca e fanno in modo che questa mitzvah possa essere messa in pratica dalla dalla torà fermo la registrazione in pratica